Era veramente un ragazzo tutto Non si risparmiava mai nel lavoro e nell'altruismo Lui nelle ore libre dal servizio faceva del volontariato nell'ordine di Malta come baregliere Era una persona sempre vicina alle persone più deboli e più bisognose Lui è sempre stato il trascinatore di tutti i ragazzi È sempre stato attivo in ogni indagine Delle proposte di ricompensa che probabilmente arriveranno a breve È una persona che merita molto Ha dato tutto, ha dato proprio la vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti